Il documentario che abbiamo appena visto denuncia il carattere criminale di un governo paramilitare e narcotrafficante, il governo di Alvaro Uribe. Questo attacco che è avvenuto in piena violazione di tutti i trattati internazionali, non rispettando la sovranità e l'autodeterminazione del popolo dell'Equador, è avvenuto, come diceva appunto il documentario, con un sangue freddo impressionante e con l'appoggio logistico militare degli Stati Uniti, perché quelle bombe che abbiamo visto nel documentario non potrebbero mai essere sganciati da aerei dell'aviazione colombiana in quanto non hanno nessun tipo di queste aeronavi che possono trasportarle, ma bensì i B-52, gli stessi che hanno bombardato il popolo iracheno. Dopo il bombardamento, dopo queste più di 20 bombe sganciate che hanno lasciato dei crateri alti 1,80 m, larghi 2,5 m, che hanno devastato tutto, come abbiamo visto, che hanno buttato giù alberi, che hanno fatto dei veri e dei propri crateri, qualche giorno dopo arriva la notizia che miracolosamente si è salvato un computer, che era il computer di Raul Reyes. Passano ancora alcuni giorni, i computer diventano due, man mano che passa il tempo saltano fuori hard disk, saltano fuori chiavette e quando le menzogne, le bugie del governo Uribe, che cerca di spiegare e legittimare quello che è stato un vero e proprio massacro, come ha detto anche il presidente dell'Equador Correa, incominciano a distillare delle notizie e delle informazioni ad hoc create e manipolate dall'intelligence colombiano. Prima per attaccare il governo di Ugo Chavez, dicono che da questi computer risulterebbero dei documenti interni delle Farc che Chavez avrebbe donato milioni di dollari alla guerriglia, poi la complicità di alcuni funzionari, fra cui il ministro che ha parlato, il ministro della Rea dell'Equador, fino a spararla sempre più grossa arrivano anche a dire che le Farc stavano cercando di commerciare, di comprare dell'uranio, probabilmente per fare una bomba atomica nella selva, cosa che ovviamente fa ridere e sarebbe materia per dei buoni comici ma non per dei politicanti come quelli colombiani che però l'hanno usata e l'hanno usata non solo a livello nazionale e continentale in Sud America ma bensì anche per colpire tutti coloro i quali, noi compresi, ci battiamo da anni perché affinché il conflitto colombiano trovi una soluzione politica, pacifica e negoziata. Queste notizie sono arrivate fino qua in Europa, dai computer sono spuntati anche degli aglias, dei presunti fiancheggiatori delle Farc qua in Italia, questi aglias erano tale Ramon e tale Consolo che non erano niente di più che Marco Consolo e Ramon Mantovani che sono due dirigenti di fondazione comunista che hanno sempre avuto alla luce del sole, tra l'altro anche avvisando le istituzioni italiane rapporti con la guerriglia colombiana già dai tempi del processo di pace a San Missente del Caguan con l'allora presidente Andres Pastrana, fino a dire che addirittura la nostra associazione sarebbero dei nuclei della guerriglia, la sparano sempre più grossa. Noi con questo video cerchiamo di sensibilizzare e dare un'informazione il più possibile obiettiva su un governo che oltre a essere illegale è anche illegittimo. Uribe è stato eletto nel 2002, l'hanno sbandierata come la prima vittoria di un presidente al primo turno con oltre il 50% dei consensi. È vero, è verissimo che è andata così. Quello che omettono è che soltanto il 40% circa dei colombiani è andato alle urne, quindi il 50% del 40% fa il 20%. Se poi contiamo che molti di questi voti si sono tenuti con le motoseghe dei paramilitari che in alcune zone obbligavano la popolazione a votare per Uribe e questa percentuale si dimezza sempre più. Uribe nel 1991 un documento desecretato dal Dipartimento di Stato statunitense lo indicava al numero 82 in una lista dei 100 più pericolosi narcotrafficanti e criminali al mondo. Si dice in questo documento che amico personale di Pablo Escobar, amico del cartello di Medellin che ha consegnato al tempo in cui era direttore dell'aeronautica civile centinaia di licenze per aprire delle piste di atterraggio nella selva da cui partivano gli aerei carichi di cocaina per gli Stati Uniti. Tant'è che oggi anche l'ex amante di Pablo Escobar ha testimoniato dicendo che lo stesso Escobar diceva che se non fosse stato per Uribe a quest'ora la droga la stavano ancora portando con le navi. Questo è riconosciuto a livello internazionale, un caso italiano se vogliamo ancora di più sottolineare il carattere mafioso di questo governo è il caso di tutto quello che ha a che vedere con la diplomazia paramilitare del governo colombiano. A Milano l'ex console si chiamava Jorge Nogueira, Jorge Nogueira era l'ex capo dell'intelligence del DAS colombiano. Dopo che il Canada ha rifiutato le sue credenziali come diplomatico è stato il benvenuto qui in Italia, ha ricoperto la carica di console fin quando non è stato arrestato per collusione con i gruppi paramilitari, ossia lui quando era il capo dell'intelligence passava le liste di sindacalisti, oppositori politici, difensori dei diritti umani alle squadracce della morte i quali pensavano a farli fuori. Quello che avviene in Colombia oggi è un vero e proprio terrorismo di stato contro tutti quei soggetti politici, sociali, contro tutti coloro che si oppongono al governo uribista di annientamento, li fanno fuori. Sono oltre 2500 i casi di falso spositivo, ossia di giovani reclutati dall'esercito con la scusa di un lavoro, i giovani più umili, quelli più poveri che vivono nelle periferie e più abbandonate delle città, poi vengono assassinati con un colpo ravvicinato, li vestono con delle uniformi guerrigliere e li fanno passare per morti in combattimento. Questo per semplici licenze premi o premi in denaro, per farsi belli agli occhi dei superiori ma anche per dimostrare all'opinione pubblica nazionale e internazionale che la lotta contro la guerriglia, la cosiddetta segurità democratica di Uribe funziona, niente più falso. Oggi la Colombia rappresenta l'Israele del Latinoamerica. Uribe ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per l'insediamento di sette basi militari a cui potranno accedere personali, in cui ci sarà solo personale statunitense e che servirà come scusa per la lotta al narcotraffico e alla guerriglia. In realtà servirà per destabilizzare tutti quei processi progressisti che stanno avvenendo nella regione e che si oppongono al neoliberismo, alle politiche neoliberali che Washington vuole imporre a quello che continua a considerare il suo patio trasero, cioè il suo giardino di casa. Coloro che riponevano delle speranze in Obama hanno potuto vedere che in realtà la linea politica degli Stati Uniti continua a essere la stessa, non c'è stato nessun tipo di discontinuità. Il colpo di Stato in Honduras né nella dimostrazione. Quello che avviene in Colombia è un vero e proprio genocidio, ci sono oltre 30.000 morti ammazzati ogni anno. In Colombia muoiono ogni anno più sindacalisti che in tutto il resto del mondo messo assieme. Dall'insediamento di Uribe sono oltre 570 quelli assassinati, torturati, fatti sparire. È un crimine di Stato. Noi l'abbiamo denunciato e lo continueremo a denunciare. Non importa se i mezzi di comunicazione colombiani, se la diplomazia colombiana farà di tutto per cercare di tapparci la bocca, per additarci come fiancheggiatori della guerriglia quando noi fiancheggiatori non lo siamo. Noi siamo un'associazione che da anni fa tutte le sue attività, la luce del sole, chi ci conosce lo sa molto bene. L'attuale ambasciatore colombiano a Roma, Salvas Pertel della Vega, ai tempi in cui era ministro dell'interno nel 2006, è stato lui che è l'ideatore della legge Justicia e Paz, chiamata così in maniera molto eufenistica. Di fatto è una legge che consegna l'impunità totale ai gruppi paramilitali, prevede una pena massima di 8 anni di reclusione che possono anche scontare in fattorie di riabilitazione, fattorie che si trovano sugli stessi terreni che sono stati saccheggiati e tolti con la violenza alle comunità contadine. Oggi questo personaggio si trova a Roma, è stato anche tirato in ballo per la questione della rielezione di Uribe perché avrebbe corrotto senatori, congressisti affinché votassero favorevolmente per una rielezione, cosa che è avvenuta in maniera fraudolenta. E' inaccettabile ed è intollerabile che istituzioni italiane, le nostre istituzioni che sbandierano di essere tanto democratiche, non sappiano quali sono il passato di questi criminali. E' ingiustificabile che il sindaco di Milano, la Letizia Moratti, abbia ricevuto la cittadinanza onoraria da parte di Uribe abbia promesso una collaborazione congiunta col governo colombiano di lotta alla droga. E' assurdo visto che Uribe è un narcotrafficante e anche un paramilitare perché fu colui che al tempo in cui era governatore della regione di Antiochia, il cui capitale di dipartimento Medellin, ha legalizzato le bande paramilitare attraverso delle cooperative di sicurezza che si chiamavano Convivir. Mi chiamo Diego, sono della redazione di Nostra America, uno dei gruppi che ha organizzato questa serata. Io credo che hai utilizzato un'espressione molto felice, infelice rispetto alla situazione però calzante, cioè la Colombia come l'Israele del Sud America, come base fondamentalmente per le strategie americane per creare, destabilizzare o creare una barriera rispetto a un processo in atto che negli ultimi anni ha investito tutto il Sud America. Un processo che per la prima volta vede il Sud America rompere il concetto di giardino, nel senso di giardino interno alle politiche statunitensi. Stiamo parlando non più in alcuni casi di forze d'opposizione, quindi movimenti sindacali, movimenti guerriglieri, ma stiamo parlando proprio di stati. Per tanti anni l'unico stato che ha rappresentato una diga tutto questo è stata Cuba, nel senso che ancora oggi paga, nel senso gli fanno pagare questa capacità di resistere all'imperialismo americano. Mi è piaciuto anche che nel video venivano ricordati i cinque che tuttora sono imprigionati negli Stati Uniti, cioè cinque militanti cubani imprigionati negli Stati Uniti. Ma al di là di questo, io credo che il processo che sta avvenendo oggi in Sud America abbia completamente destabilizzato quello che era una specie di tran tran o di normalità nella politica del continente nord e sudamericano. Stati come il Venezuela, stati come la Bolivia, in parte lo stesso cambio del Brasile o l'Equador, rappresentano una novità assoluta per la politica sudamericana, tanto che si parla addirittura di nuovo il termine socialismo, tanto infangato qua in Europa, il ritorno ad essere una prospettiva per il mondo, tanto che è dal Sud America che viene l'espressione per un socialismo del ventunesimo secolo. Perché quindi è importante soffermarsi su quello che avviene in Colombia? E come giustamente ricordavi tu, negli ultimi settimane abbiamo avuto il caso dell'Honduras? Perché lì si materializza quello che è in modo limpido la politica degli Stati Uniti, cioè di difendere con le unghie politiche quello che avevano e questi popoli giustamente li hanno tolto. Utilizzeranno tutti gli strumenti, così come il relatore, ma anche nel video c'è un passaggio dove dice che questi inizieranno a utilizzare tecniche israeliane, quindi di eliminazione non solo di massa, ma anche selezionata dei quadri dirigenti. E molto probabilmente avremo, io credo, anche un escalation attorno di queste questioni. Il dato che io credo, nella ristrettezza se volete di un punto di vista occidentale, però c'è che io credo ci dia coraggio, ci dia speranza, è che stiamo parlando di movimenti che non stanno arretrando, ma stanno vincendo. Cioè nel senso le Farc, come è stato ricordato, è da quasi, è da più di 40 anni che esistono e hanno una loro capacità politica, militare, sociale, di rigenerarsi continuamente. Abbiamo interi Stati dove la sinistra, cioè il movimento socialista, in tutte le sue varianti, indipendentemente che ci piaccia o meno gli ismi che possiamo attaccare, è passata all'offensiva, dandosi un piano, un piano di governo effettivo. Ecco, io credo che un tempo si diceva, cioè un'espressione un po' retro, che diceva l'imperialismo è una tigre di carta, cioè per dire che in realtà questi denti si possono anche, cioè si può anche sconfiggere. Beh, noi oggi vediamo come nel Sud America si possa oggi parlare non solo guardandosi indietro ma guardando in avanti, cioè avendo anche il coraggio di dire che si può anche vincere. Ovvio, la vittoria passa anche in queste immagini drammatiche, cioè passa da queste stragi, passerà ahimè da tutta una serie di conflitti o di cose molto laceranti. Però il messaggio secondo noi importante oggi, se si affronta la questione sudamericana, è che noi abbiamo un continente che sta guardando avanti, che sta vincendo, cioè nel senso che si sta, diciamo, finalmente emancipando da quello che è stato il colonialismo che l'ha attraversato dagli spagnoli e dalle popolazioni di lingua inglese. Tra l'altro volevo fare un approfondimento che magari può aiutare a quello che diceva Diego. I processi che stanno avvenendo in Sud America oggi sono nuovi, a partire da quello venezuelano non era mai successo che un militare progressista arrivasse al governo attraverso lezioni, con una buona componente di simpatia da parte dell'esercito, una buona parte dell'esercito è con Chavez. In Ecuador idem, in Bolivia altrettanto. Qualcuno si può chiedere ma perché in Colombia allora non si lancia un movimento politico? Perché c'è bisogno di una guerriglia? Perché c'è bisogno di prendere le armi? Perché la storia colombiana è diversa da quella degli altri paesi, semplicemente. Perché nel 1984 l'insorgenza colombiana, le FARC, hanno provato, sono arrivati ad un dialogo di pace con l'allora presidente Belisario Betancur, nel quale le FARC si impegnavano a lanciare un movimento politico ampio, includente, non un movimento o un partito comunista settario. Questo movimento è l'Unione Patriottica, includeva i comunisti, includeva i liberali dissidenti dal loro partito, includeva anche settori cattolici, cioè tutte quelle persone democratiche, sinceramente democratiche, che volevano un cambio con giustizia sociale nel loro paese. Da parte sua il governo si impegnava a smantellare le squadracce paramilitari e a dare, diciamo, l'agibilità politica a questi militanti. In alcuni dipartimenti, dopo solo sei mesi dal lancio dell'Unione Patriottica, avviene un consenso che superava il 70%. Bene, questo grandissimo partito, includente, amplio, in dieci anni ha visto cadere sotto il piombo del terrorismo di Stato oltre 3.000 dirigenti solo del Partito Comunista, due candidati alla presidenza e migliaia di morti ammazzati. Dopo dieci anni, dopo che il governo non si è impegnato in niente dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista umano. È impensabile che tu oggi metti un dirigente sindacale e lo assassinano e ne metti un altro dopo un mese e lo assassinano e continui così. Dal punto di vista politico è una follia, dal punto di vista umano non lo puoi accettare. Per questo che le Farc hanno detto che non c'è la possibilità di fare una lotta politica legale con tutta l'agibilità che garantisca l'incolumità dei militanti. Per questo hanno lanciato un partito comunista che per ragioni oggettive è clandestino, un movimento bolivariano che include tutte le persone che vogliono collaborare per una pace con giustizia sociale nel paese. Qualora si giunga ad un dialogo di pace, la guerriglia, lo ha già dimostrato in passato, lo ha già dimostrato con gli altri accordi di pace, si siede, dialoga e discute su temi seri. Il problema è che in un paese come la Colombia, dove c'è una concentrazione della terra che si può ancora definire feudale, dove l'80% della terra è in mano a meno dell'1,5% della popolazione e dove per forza di cose ha bisogno di una riforma agraria per riuscire a dare lavoro di nuovo a tutti i contadini, per riuscire a svuotare le città, le grandi metropoli che stanno scoppiando. Qualora uno la propone, l'oligarchia, che è un'oligarchia sanguinaria, mafiosa, fortemente legata al narcotraffico e alle grandi speculazioni, non ne vuole sentir parlare. Per quello che si sono rotti gli accordi passati, perché si può discutere finché si vuole, però a un certo punto bisogna fare dei passi, bisogna mettere in atto quello che si è discusso. Con Uribe sarà molto difficile che ci sia quello. Noi crediamo che il conflitto colombiano debba in ogni caso avere una soluzione politica e, se possibile, pacifiche negoziate fra le due parti belligeranti, cioè fra lo Stato e la guerriglia. Questo passa innanzitutto attraverso lo scambio umanitario dei prigionieri di guerra. Per questo è avvenuto questo bombardamento, perché le FARC avevano questo accampamento sì in territorio equado-regno, ma per una semplice ragione, perché era un accampamento diplomatico, ossia dove venivano diplomatici francesi, svizzeri, da tutto il mondo per dialogare, per incontrare la guerriglia, per capire quali erano le condizioni. Il governo colombiano è venuto a conoscenza che, la conoscerete tutti, Ingrid Betancourt sarebbe stata liberata in maniera unilaterale dalla guerriglia. Questo sarebbe stato un colpo per l'establishment colombiano e lo doveva impedire a tutti i costi e l'ho impedito attraverso questo massacro. Uno scambio umanitario che possa da una parte far riavvicinare alle famiglie i soldati, che sono molto pochi tra l'altro, non sono quelli descritti dai grandi mass media, alle loro famiglie e dall'altra parte liberare tutti quei guerriglieri che stanno marcendo nelle carceri colombiane, che vi assicuro che in confronto alla ristrettezza della selva è comunque il paradiso rispetto alle carceri tombia in Colombia. Si parla di terroristi e di guerriglieri, come se fossero la stessa cosa. Non credo siano la stessa cosa. Ci puoi spiegare la differenza? La differenza è molto semplice, che il termine terrorismo innanzitutto è stato cognato a partire dall'11 settembre, perché prima erano solo narcotrafficanti, adesso sono diventati narcoterroristi. In realtà la guerriglia colombiana è una guerriglia che rientra a pieno titolo nelle condizioni di Ginevra, per quello che parlavo di scambio umanitario fra le due parti belligeranti. Per questo motivo qua, perché è una guerriglia verticale, è una guerriglia verticale dove però vige il centralismo democratico, quindi dove c'è il dibattito, dove c'è la discussione, ma dove l'ordine impartito dall'alto, per esempio nel processo di pace, se si ordina di non sparare un colpo, non si spara un colpo. Quindi è una guerriglia che ha veste uniformi e che soprattutto, benché nella durezza di una guerra, perché in Colombia vi è una propria guerra, rispetta i diritti umani. Può suonare ad alcuni, magari un po' strano, ma è così. I soldati, i prigionieri, i detenuti che alla guerriglia sono sempre stati trattati con umanità, non sono mai stati umiliati. Tanto è vero che è uscito anche un libro di quei tre mercenari della CIA detenuti dalla guerriglia che anzi attaccavano proprio Ingrid Betancourt dicendo ogni volta che c'era lei dovevano venire i guerriglieri a dividerla perché metteva solo zizzania e ci trattavano meglio i guerriglieri che la Betancourt. Quindi la dice lunga su questo fatto. In realtà quello che si tenta di far passare è criminalizzare le FARC perché non si rassegnano a morire sotto il piombo del terrorismo quello sì, provato e conclamato del governo colombiano, ma hanno deciso di resistere un po' come hanno resistito i nostri partigiani durante la guerra di liberazione che non li chiamavano terroristi ma li chiamavano banditi. In realtà quei banditi erano degli eroi nazionali. La stessa cosa vale per la guerriglia colombiana. Certo che nella durezza di una guerra il fatto di riuscire a sedersi per trovare una soluzione politica noi crediamo come associazione una colombia ma questo lo ripetono tutte le ONG europee ed internazionali e poi la stessa guerriglia è l'unica soluzione per dare veramente una pace con giustizia sociale. Non la pace romana, la pace dei sepolcri ma una pace in cui tutto il popolo colombiano possa godere delle immense ricchezze che ha il paese mentre oltre il 60 per cento della popolazione vive in povertà. C'è un'altissima percentuale che vive in miseria in un territorio che è grosso quattro volte l'Italia e che ospita poco più di 43 milioni di abitanti. Questo divario sociale, economico non può che produrre conflitti. Questi conflitti vengono repressi nel sangue attraverso appunto il terrorismo di Stato attraverso le bande paramilitari che non sono le bande paramilitari non sono dei soggetti indipendenti, degli attori armati come li chiama il governo colombiano. No, sono dei veri e propri apparati dell'esercito. Alle volte sono gli stessi militari che si tolgono la divisa, si mettono il braccialetto paramilitare e compiono quei massacri che con la divisa non possono compiere. Prova ne sia che ogni volta che c'è un massacro paramilitare a pochi chilometri c'è sempre un battaglione dell'esercito. Questo è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite, è stato condannato da organismi non governativi di tutto il mondo, ci sono centinaia di migliaia di prove ormai per verificare tutto ciò. Un governo che è illegittimo e illegale come dicevo prima e continua a bollare di terroristi non solo le FARC ma coloro che si oppongono a qualsiasi livello. Pensiamo che da quando stiamo facendo girare questo video adesso la stampa colombiana ha incluso nei suoi articoletti anche come fiancheggiatori delle FARC in Italia i familiari delle vittime di sucumbios che sono in Messico, quindi questo la dice lunga. Quindi tutti coloro che dicono queste cose verificabili perché sono documentazioni che su internet si trovano tranquillamente sono oggetto di persecuzione mediatica per adesso, per quello. Quindi il termine terrorista in realtà sarebbe da rigirare, da rimandare al mittente, gli stessi che poi lo impiegano quotidianamente contro il suo stesso popolo. Secondo te perché il governo messicano non ha favellato? Il governo messicano, lo diceva lo stesso genitore di una delle vittime, è un burattino degli Stati Uniti come lo è anche il governo di Alan Garcia in Perù. In realtà tutti gli altri governi abbiamo anche visto opposti in maniera anche molto forte, le relazioni diplomatiche tra Ecuador e Colombia del primo marzo del 2008 sono ancora ad oggi interrotte. Se avete notato il Presidente Correa durante la lettura del comunicato riguardo i fatti di sucumbios ha detto di quello che loro chiamano terrorismo. Quindi di fatto in Latino America non vi è nessuno che considera le FARC come un'organizzazione terroristica, ma come un'organizzazione insurgente, insurgente, come una vera e propria guerriglia. Chavez l'ha affermato anche lo scorso anno in Parlamento e c'è stata un'ovazione generale. Lo sanno molto bene. Lo sa molto bene il popolo venezuelano che ha visto le infiltrazioni dei paramilitari in Venezuela. Hanno arrestato una trentina di paramilitari a Caracas in una fattoria limitrofa, la capitale, che stavano studiando un piano e mettendolo in atto per assassinare il Presidente. Quindi c'è un forte legame tra le due oligarchie. Pedro Carmona, il golpista che ha tentato il colpo di Stato in Venezuela, ha trovato asilo politico in Colombia. Quindi vi è un forte connubio tra questi due soggetti. Chiaro che nelle frontiere ci sono i paramilitari che entrano in territorio venezuelano, assassinano, ammazzano per destabilizzare tutti quei processi democratici perché sono processi fortemente voluti dai popoli. Molti si chiedevano, cercando di far passare la terza rielezione di Uribe, perché andrà verso la terza rielezione, se è giusto che un Presidente si candidi possa essere ricandidato a vita. Io personalmente credo di sì, che sia giusto, quando è frutto della volontà della maggioranza di un popolo che venga attraverso un referendum come quello che è avvenuto in Venezuela e dove abbia il consenso della maggioranza di persone, secondo me è giusto perché ne dovrebbe essere sbagliato. Nel caso di Uribe il problema non si pone perché è già illegittimo e illegale dal primo mandato. Io credo che, io di questo non ne sono a conoscenza, immagino che comunque la guerriglia colombiana abbia contatti con tutte le organizzazioni continentali che operano, diciamo, nella sfera del cono sud. Le Farc hanno sempre avuto una posizione molto chiara, hanno sempre rispettato tutti i soggetti che lottavano, ma non solo le guerriglie, anche tutti quei soggetti politici che continuano a fare le battaglie legali, anche in Colombia, più volte si dirigono a questi soggetti per dialogare, perché se noi vogliamo pensare a una soluzione politica in un paese, in qualsiasi paese, ma in questo caso nella Colombia, deve essere accompagnata dal consenso del popolo. E il consenso del popolo si ottiene solamente parlando con tutti, cercando di trovare, di venire incontro alle varie esigenze, ovviamente non con quei settori sanguinari dell'oligarchia. Quindi immagino che abbiano dei rapporti di mutuo rispetto come ci sono stati con le altre organizzazioni. Certo che alcune dichiarazioni fatte anni passati di Marcos lasciano un po' a dubitare, perché Marcos aveva detto che loro non erano come le Farc che rapivano, che facevano estorsioni. In realtà probabilmente non conosceva a fondo la situazione colombiana. Le Farc detengono quelle persone che applicando una legge laddove lo Stato è inesistente nelle campagne, dove non c'è, laddove de facto la guerriglia, d'accordo con le comunità locali, contadine, indigene, con tutti i settori sociali, di fatto è lo Stato, perché poi costruisce ponti, costruisce strade, applica una legge che è la legge 002, cioè coloro i quali posseggono più di un milione di dollari devono pagare una percentuale per mantenere questa, visto che non c'è lo Stato, dobbiamo pagare una tassa per la pace, che fanno solo pagare a queste persone che siano fisiche o giuridiche multinazionali. Chi è che possiede più di un milione di dollari in Colombia? Latifondisti, narcotrafficanti, grandi compagnie multinazionali. Se queste non pagano, vengono detenute come in qualsiasi Stato, se tu non paghi le tasse, meno qua in Italia, va in galera. A livello economico, attraverso questa legge, ovviamente alzano quello che gli consente e poi di fare quello che io ti dico. Io nel merito non lo conosco dove prendono i soldi per finanziare. Però teniamo presente che nelle campagne c'è un forte dialogo con i settori contadini, anche perché è impensabile pensare a una guerriglia di 20.000 uomini, come dicono, chi 15.000, chi 25.000, come il numero non è importante, alienata, distante dalle masse popolari. Perché morirebbe, scomparirebbe, non avrebbe ragione di esistere. Quindi là nelle campagne, dove coltivano i terreni, dove costruiscono magari delle opere di infrastrutture in cambio, magari ottengono i viveri per il proprio sostentamento, quello copre già la parte, diciamo, di sopravvivenza. E poi attraverso queste leggi che impongono anche ai narcotrafficanti. Noi abbiamo invitato dei contadini coltivatori della coca che sono venuti qua, abbiamo fatto vari incontri, dicendo noi non siamo narcotrafficanti, noi siamo coltivatori di coca, perché lo Stato ci ha privato della possibilità di poter coltivare altri cereali, altri tipi di prodotti. E quindi laddove arrivano i narcotrafficanti, in zone controllate la guerriglia, la guerriglia non solo gli impone la tassa, ma gli impone anche che gli paghino il prezzo giusto a questi contadini che non possono fare altro per sopravvivere che coltivare la foglia di coca. Perché se tu gli togli la foglia di coca a questi contadini che alternativa riesci a darglia? Quando è lo Stato stesso che ha imposto quella forma e sono gli stessi Stati Uniti che hanno imposto quel metodo, quella violenza e quelle condizioni politiche per poter coltivare la coca in Colombia per poi mandarla al nord e in tutta Europa. E quindi se tu narcotrafficante non paghi vieni detenuto e li alzano i soldi e si finanziano così. Ma non si finanziano attraverso la droga come molti ci vogliono far credere. Uno perché per fare la cocaina ci vogliono più di 17 componenti, uno dei quali è la foglia di coca, tutti gli altri sono prodotti chimici che vengono sempre dal nord, che sarebbero irreperibili nel pieno della selva. E poi è stato provato, ma anche a livello internazionale. Qua in Italia c'è la procura di Reggio Calabria che ha aperto un'inchiesta per il traffico di droga fra l'Andrangheta e i gruppi paramilitari di Salvatore Mancuso, che è uno dei capi più alti dei paramilitari, il quale adesso che è stradato negli Stati Uniti ha detto io non posso parlare, non posso dire tutto quello che so con i miei familiari in Colombia. Però Uribe approvava tutto quello che facevamo, nera al corrente e alte sfere della cupola militare non solo lo sapeva ma ci appoggiava, ci dava appoggio logistico e supporto militare. Possiamo fare una differenziazione fra i paesi. Oggi nel Sud America abbiamo, come vi hanno detto, gli stati come Israele, come giustamente ricordava il compagno che può essere la Colombia, cioè l'avamposto, l'ultimo avamposto americano. E poi ci sono tutta una serie di nazioni che con un diverso grado hanno sposato delle politiche democratiche progressiste, cioè si va dal, come si può dire, le punte più avanzate, Cuba, Venezuela, la Bolivia, lo stesso processo che è partito in Ecuador. Abbiamo governi di centro-sinistra che hanno stravinto, pensiamo alle ultime votazioni che ci sono state in Uruguay, nel senso dove addirittura arriveranno a fare i ministri ex Tupamaros, cioè che per la storia anche lì sanguinosa, drammatica dell'Uruguay, per chi ha un minimo di memoria su quello che è stata le drammatiche vicende degli anni 60 e 70 in Uruguay, capisce che anche lì c'è un passaggio epocale. La stessa argentina, e arriviamo al Brasile dove sicuramente le politiche di Lula non possono essere paragonate alle politiche di Castro o di Morales o di Chavez, ma sicuramente, nel senso, nella bilancia, questo ha, essendo poi la nazione più importante del continente latinoamericano, cioè, diciamo, anche se, se vuoi, da un punto di vista politico un po' più arretrato rispetto a questo, fa parte di una tendenza in atto, cioè il, poi esistono secondo me anche dati simbolici che non bisogna mai dimenticarsi, cioè il presidente del Brasile durante la dittatura, la nazione che lo ospitò, Lula, la nazione che lo ospitò era Cuba, cioè nel senso il, ora questo non vuol dire niente, però, come ho detto, se lo inseriamo dentro una tendenza in atto, noi vediamo che la maggior parte delle nazioni sudamericane stanno iniziando a sposare o una posizione o democratica o direttamente socialista, cioè, quindi c'è un passaggio innegabile, cioè, anni fa noi abbiamo avuto esperienze, si deve ritornare indietro, pensiamo al Cile di Allende, no? Però il Cile di Allende è stato spazzato via subito, il, perché? Perché era cerchiato oggettivamente, noi oggi abbiamo il contrario, cioè abbiamo, che è Colombia, quindi non è un caso, e ritorno sull'esempio, secondo me è calzantissimo, cioè, di Israele ha cerchiato, cioè poi sappiamo che in realtà chi sono gli accerchiatori, chi fanno i muri, ma al di là di quello, cioè, è questo il passaggio, quindi, e risottolineo, oggi parlare di Sud America stiamo parlando di un continente che avanza, cioè, e questo è un dato che bisogna tenere assolutamente in considerazione, e molto in mente influirà anche, cioè, questo passaggio in avanti, ha influito anche sulla politica internazionale, influisce anche su quello che sta avvenendo oggi in Medio Oriente, influisce anche su quello che vuole dire l'equilibrio dei popoli asiatici, cioè delle nazioni asiatiche, cioè il, è un cambio, cioè, molto in mente anche epocale, no? Dentro questo passaggio, ogni passaggio non è automatico, no? Cioè, non è 1-2-1-2, non è meccanicistico, è ovvio che ci sono delle velocità diverse, ci sono dei contraccolpi, quello che è successo, ribadisco, qualche giorno fa in Honduras, è una dimostrazione che, diciamo, la fiera non vuole mollare niente, però questo processo è, diciamo, è come dire sul sassolino, no? Cioè, la palletta di neve, che ormai sta rotolando, le Uribe, per quanto potrà continuare, cioè, è diventato lui il prigioniero, cioè, se vogliamo ragionarla in grande, in questo senso, è ovvio che dentro questa visione, se volete anche un po' enfatica, è ovvio che ci stanno dentro tutte le cose che abbiamo visto qua, cioè, perché stiamo parlando comunque di persone che muoiono, stiamo parlando comunque anche di giovani che devono rischiare la vita per la democrazia, per la libertà, per i diritti civili, per uno Stato che dia, diciamo, una serie di garanzie che magari per noi sono normali, cioè, nel senso, anche se poi anche qua si potrebbe ragionare, cioè, il su quanto è normale alcune cose ormai, il, questa era, diciamo, per dire, per entrare sulla cosa, il, poi, diciamo, il continente Brasile aprirebbe un, cioè, un mondo attorno a sta cosa, insomma. Sicuramente il Brasile è la potenza economica più importante e significativa dell'America. Pensiamo però che, per esempio, il Venezuela fornisce il 25% del petrolio che consumano gli Stati Uniti, quindi un quarto del petrolio viene dal Venezuela. Ma pensiamo a un paese come la Colombia che ha delle ricchezze naturali immense. La Colombia è il terzo paese al mondo per ricchezze idriche, dopo Groenlandia e Canada, e fra una ventina d'anni le guerre le faranno non più per il petrolio ma per l'acqua che sta incominciando a scarseggiare. Ha la più grande miniera di carbone a cielo aperto di tutto il continente, il Serrejón. Ha oro, diamanti. Ha un microclima che permette di coltivare qualsiasi prodotto agricolo per tutto l'anno perché ha varie zone del paese, cioè ha delle ricchezze naturali che sono immense, che fanno gola alle grandi multinazionali che vogliono appropriarsi soprattutto di quelle ricchezze dell'Amazzonia, che stanno cercando di far passare come patrimonio dell'umanità, come una zona neutrale in realtà per riuscire a impossessarsene. Sono d'accordo con Diego quando dice che è un continente che sta guardando avanti. In realtà i popoli latinoamericani hanno scelto indipendentemente poi magari da alcune posizioni di presidenti come Lula che potrebbero anche far discutere, però hanno scelto di rompere con quel modello neoliberista. Sono stufi di essere soggiogati dagli Stati Uniti e stanno lottando per ottenere la seconda e definitiva indipendenza. Prima da quella spagnola, cui si liberarono grazie all'esercito del libertador, Simon Bolivar, oggi quegli ideali bolivariani li stanno riprendendo per lanciare la seconda offensiva, la liberazione del continente e la seconda definitiva indipendenza. Quello che avviene là non è slegato dal contesto a livello internazionale perché innanzitutto per noi rappresenta una boccata d'ossigeno, una speranza, cioè la dimostrazione che popoli come quello venezuelano dove c'erano ancora milioni di analfabeti, dove c'erano decine di milioni di poveri e di ignoranti, nel senso che non avevano istruzione, cioè se ci sono riusciti loro perché non ci dovremmo riuscire noi che invece abbiamo degli strumenti per riuscire ad accedere alle informazioni molto più facili di quelli che hanno loro. Per noi rappresenta una speranza quello che avviene oggi in Sud America, sconfiggere l'imperialismo è possibile, lo stanno dimostrando e lo stanno portando avanti con determinazione. Questo secondo me è un ottimo segnale anche per chi si guarda attorno qua e alle volte rimane un po' sconfortato. Innanzitutto nella veste di colombiana grazie di occuparsi, il tempo, lo spazio, ma visto che sono una colombiana che vive in Italia ogni giorno sono più perplessa delle cose che capitano e succedono nella politica italiana. La differenza tra l'Italia e il movimento in Sud America è che purtroppo i giovani in Italia non hanno voglia di prendere in mano il destino, il loro futuro politico. Mentre nell'America Latina i giovani sono frutto di tutto lo sfruttamento e di tutta la mano tosta, la mano militare che c'è stata, questi giovani hanno vivo il fermento, lo avete visto anche voi nel video a livello universitario. Poi l'America Latina ha una componente che non si è parlato e della componente indigena. La Colombia ha 84 popoli indigeni che comunque rivendicano la loro autonomia territoriale che della Costituzione politica del 91 ha preso in mano e ripreso in mano ed è una controegemonia molto importante per questo modello imperialistico. È una componente importante che confronta anche i movimenti guerriglieri sia FARC che ELN perché è una componente importante che ha voluto rivendicare e comunque è d'accordo con una soluzione pacifica al conflitto, è d'accordo con una tavola di negoziazioni ma è d'accordo anche col rispetto del loro territorio. Un territorio che non viene è rispettato da nessuno degli elementi del conflitto, chiamisi esercito nazionale, chiamisi movimenti guerriglieri, chiamisi paramilitari. Quindi il brutto della guerra e il brutto di questa situazione in Colombia è che la popolazione civile che sta in mezzo, è la popolazione civile contadina che deve fare fronte a tutti gli attori armati come li chiama il governo colombiano che transitano per il loro territorio. Ed è ben consapevole che le FARC, sì è vero che sono una delle guerriglie più antiche al mondo, ma è vero che questa lotta che insanguina alla Colombia la gente è stanca, la gente, la popolazione civile è stanca, per cui bisogna che il braccio politico, il braccio ideologico delle FARC prenda in mano la situazione di questo dialogo, prenda in mano la situazione di stanchezza della popolazione civile colombiana ed è un momento storico questo da non lasciar perdere, questa situazione di Uribe, questa situazione internazionale dove Uribe ha combinato dei grossi guai sia con Ecuador che con Messico è un momento congiunturale e poi l'Italia e tutto quello che succede in Colombia e nei sud del mondo è responsabilità di quello che succede al nord, per cui bisogna guardare qui, bisogna guardare qui nelle scuole italiane cosa si insegna ai ragazzi, bisogna capire perché c'è questa apatia dei giovani a partecipare in politica, a scendere in piazza, questa generazione è prodotto del famoso miracolo economico anni 70, il benessere e l'abbondanza materiale che hanno avuto tutto e non hanno voglia di fare niente. È una cosa che va, voi da italiani la potete capire meglio di me, ma io mi chiedo e non mi rispondo, non mi rispondo perché non riesco a capire. E quindi mentre l'America Latina ha questo fermento e ha questa voglia della gioventù di prendere in mano la situazione nonostante lo amassero, abbiamo visto questi genitori qua che facevano venire la pelle d'oca dicendo anche se moriamo noi ma Uribe lo vediamo alla Corte Penale Internazionale, ci sarebbero anche tanti in Italia di portare alla Corte Penale Internazionale. E quindi è un richiamo di lavorare anche nel cortile di casa, cioè va bene guardare anche tanto lontano, noi paesi lontani siamo ben lieti di avere la solidarietà, ma bisogna anche guardare cosa succede nel cortile di casa, perché finché non ripuliamo il cortile di casa e non si riprende la situazione politica in Italia, difficilmente possiamo fare ecco nelle circostanze lontane. Questo è più una riflessione che una domanda e poi il richiamo anche a chi è vicino al dialogo con i movimenti armati nel mondo, di capire che è il momento cogiunturale e soprattutto in Colombia di puntare al tavolo dei negoziati con delle proposte che dalla guerriglia possano coinvolgere le altre realtà latinoamericane in cui il movimento indigeno viene escluso dalle loro e quindi mentre non venga coinvolto il movimento indigena, la possibilità di un accordo ha poco successo, lo dicono anche i politologi in Colombia. Certo, l'entità ufficiale si chiama ONIC, che è Organizzazione Nazionale Indigena Colombiana, però diciamo quello è un'istituzione ufficiale, ma i movimenti indigeni rivindicano l'autonomia del loro territorio e quindi l'allontanamento del loro territorio di tutti gli attori armati, chiamessi guerriglia, chiamessi paramilitari, chiamessi esercito nazionale e nessuno le rispetta perché l'esercito e i primi, loro hanno dalla Costituzione del 91, hanno riconosciuto la loro autonomia di governo proprio e quindi loro dicono noi non abbiamo bisogno delle armi perché abbiamo il nostro proprio metodo di giustizia, il nostro proprio normativa, per cui noi non vogliamo le armi nel territorio. L'esercito colombiano dice no, noi non possiamo perché dobbiamo proteggervi e quindi noi dobbiamo andare dentro al vostro territorio e quindi con questo pretesto l'esercito nazionale va dentro al loro territorio e loro a questo punto si parla di un conflitto costituzionale a livello internazionale perché se la Costituzione del 91 gli dà a loro questa autonomia territoriale l'esercito nazionale non ci dovrebbe essere dentro al loro resguardo come si chiama. Poi i loro resguardi sono tutta la giungla colombiana per cui è un territorio dove c'è libera circolazione per tutti quanti e questo la guerriglia lo dice anche. E quindi si trovano e questo motivo ha fatto sì che il governo sia ben lieto di avere la guerriglia, i popoli indigeni contro la guerriglia e che ci sia il massacro del popolo Awa in Narinio dove hanno accusato alle FARC di questo massacro di questo popolo indigeno. Ci sono altre situazioni di popoli indigeni che hanno sofferto e che dopo l'esercito colombiano ha dato le colpe alla FARC. Poi che la FARC lo abbia riconosciuto o meno nel caso degli Awa mi sembra che c'è una discussione. Per cui questo è una cosa che bisogna metterlo sul tavolo di discussione. C'è da fare una premessa. Innanzitutto è vero che ci sono più di 80 etnie indigene ma rappresentano meno dell'1% della popolazione in Colombia. Non per questo vengono discriminate. Anzi, e ti dico che, e questo si trova, no, meno dell'1% della popolazione. E geograficamente loro rivendicano dei territori che sono probabilmente anche molto grandi. Però non è questo il problema concettuale. Il problema è che la marcia che ha organizzato lo NIC solo poco tempo fa è stata repressa nel sangue, mica dalla guerriglia. Hanno sparato sugli indigeni, hanno ammazzato una dirigente indigena, l'esercito, a colpi di piombo, l'hanno massacrati, sparavano sui manifestanti. Non era mica la guerriglia che sparava sugli indigeni. Tant'è vero che ci sono dei fronti guerriglieri in cui ci sono molti indigeni che sono integranti delle FARC. Alcuni anni fa vennero qui in Italia alcuni dirigenti degli UVA, di indigeni colombiani, a fare tutta una serie di dibattiti in giro per l'Italia. Quegli stessi dirigenti sono stati sconosciuti dalla stessa gente. Perché? Chi aveva due case, chi aveva la macchina, chi aveva avuto il suo tornaconto, mentre loro in realtà non erano neanche minimamente d'accordo con quello che dicevano. Ora, a tutti piacerebbe nel mezzo di una guerra dire no ma io voglio stare tranquillo, non c'entro niente, io ho il mio pezzettino di orto, me lo coltivo e non è neanche o stai con me o stai contro di me. Però c'è un conflitto sociale, no? C'è una vera e propria guerra e uscire da questa guerra significa portare avanti, no? Delle soluzioni politiche. Bene, ma le FARC l'hanno fatto questo. Ora, quando tu dici gli ideologi delle FARC dovrebbero riflettere, ma ci riflettono ogni giorno. Difatti le proposte, l'agenda dei dieci punti che avevano proposto al governo, riforma agraria, riforma giudiziaria, risolvere il problema degli sfollati. Cioè, in Colombia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di sfollati, su una popolazione di 43 milioni, di sfollati dalla violenza paramilitare. Arrivano in una regione e ti dicono tu te ne devi andare, se no ti ammazziamo. Quelle terre vengono prese all'interno del... no, no, interni, interni, solamente interni, tra l'altro dati riconosciuti dalla stessa Chiesa Cattolica. E chi le ha sfollati? Sarà mica la guerriglia che li sfolla per farci che cosa? No, li sfollano per prendersi tutte quelle terre che vanno a incrementare il patrimonio degli atti fondisti e sulle quali passeranno i grandi megaprogetti. Allora, tu, popolazione indigena, che rivendichi un territorio, magari grosso come il Piemonte e siete magari un'etnia molto esigua, non puoi pretendere che nessuno passi in una selva che tra l'altro non ci sono neanche confini, non ci sono niente. Quando è lo Stato che ha imposto questa guerra, è lo Stato che continua a reprimervi, è lo Stato che continua a massacrare tutti, tutte le componenti del popolo colombiano. Su questa la guerriglia sulla componente indigena ce l'ha chiarissimo, altrimenti come si spiegherebbe che molti indigeni entrano nella loro spontanea volontà nella guerriglia. Certo che quando la guerriglia giustizia dei paramilitari, i paramilitari non sono solo quelli che viaggiano con la mimetica e con le motoseghe, quelli sono quelli che si fanno accompagnare dall'esercito, ma poi sono vestiti come semplici contadini e li fanno passare come contadini, ma quelli sono paramilitari, quelli che sono seduti qua nelle varie sedi diplomatiche, come dicevo prima, hanno la giacca e cravatta, ma sono paramilitari.